l'immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana e alla missione della chiesa il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere che non si stancano di camminare per le strade della vita per recare a tutti la consolante parola di gesù ogni battesato ha ricevuto la vocazione all'annuncio annunciare qualcosa qualcosa annunciare gesù la vocazione alla missione evangelizzatrice annunciare gesù